Ciao velisti, sono Fabio Portesani e vivo a bordo di Gentilina dal 2017 con la mia famiglia. Gentilina è una barca comoda e sicura ed è una Benetoccia, anis 4 a 30 del 1990. Non avevo grande esperienza di barca a vela, ma una grande passione per il mare condivisa dalla mia fidanzata, i miei due figli, più uno in arrivo, e i miei due gatti. Un giorno abbiamo deciso che la vita di città ci andava stretta e dopo esserci trasferiti a bordo di Gentilina abbiamo iniziato la nostra avventura esplorando il mar Mediterraneo. So che a molti piacerebbe vivere in barca e così quest'estate ti accompagnerò giorno per giorno nella vita di un live bordo. Ti racconterò come viaggia ai tempi del Covid, la manutenzione spicciola da effettuare, i trucchetti di bordo ed in generale le avventure che mi capiteranno in questo 2021 in barca. Buona visione e buon vita. Nello scorso episodio siamo stati a Bari per preparare Gentilina a qualche mese di mare. Insomma, lavori, 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 ma vivere in barca ci dimostra come sempre che non solo ne vale la pena, ma che è un piacere ed un continuo arricchimento. Quest'anno destinazione Grecia, ma decidiamo di fare qualche breve tappa per testare Gentilina, soprattutto per la Cambusa. Abbiamo imparato ad avere i nostri riferimenti qui, San Nicola, il Castello Svevo, poi abbiamo Avele Antenne, il Ponte Adriatico, la Chiesa Razzo, che non sappiamo come si chiama e soprattutto una cosa bellissima delle città di mare, il faro che ci accompagna tutte le notti. Ci hanno girato anche dei film in quel faro lì. E qui c'è l'uscita. La prima tappa ci porterà a Brindisi. Dovremmo arrivare questa sera, sono circa 70 miglia, e speriamo in un bel venticello. Oggi il tempo è colicolà, però dovrebbe venire fuori un po' di bel tempo tra un paio d'ore. Vediamo. Il primo stop a Brindisi, ma arrivati appena oltre Monopoli, il caldissimo vento di scirocco inizia a soffiare a circa 25 nodi, con raffiche fino a 40 nodi. Dopo aver resistito di volina per qualche ora, decidiamo che come prima veleggiata è abbastanza. Così optiamo per una rada che si omiglia quasi più a una cappa davanti a Torre Canne. Non so se si sente bene. Oggi c'è un po' di scirocco. È veramente come avere un phone puntato in faccia. La sensazione è come quella del corpusso. Quando arrivi a Sciarro, scendi dall'aereo ad agosto e hai questo phone puntino da 40 gradi portato addosso e trovi il relax sull'aereo. È qui uguale. Avanti a Torre Canne, perché volevamo arrivare a Brindisi, ma ci siamo distrutti. Allora abbiamo deciso di fermarci. Se vedete i capelli, ecco, questo è uscito. E' uscito. E' molto molto bello. In fondo è un contenitore. Per questa notte va benissimo. Arriviamo a tirare alle 5, alle 6, ci svegliamo. Ripartiamo e ce ne andiamo a Brindisi. Facciamo il tampone e poi facciamo il canone. Questo è il momento tecnologia. Marina scucinazza là sotto. Si sente un odorino eccezionale. Anche Valero è il momento tecnologia. Io ho messo l'allarme ancora. Là, che super luminosità. Va bene. Là sotto c'è la profondità, il vento. Siamo ormeggiati praticamente a 400-500 metri dall'arriva. La mattina presto partiamo alla volta di Brindisi. Conosciamo molto bene questa bellissima città, dato che nel primo anno di vita in barca siamo rimasti circa un mese alla Prodo delle Indie, un marina situato nel centro storico e quasi esattamente sotto le colonne della Via Appia. Ultima tappa prima della Grecia. Ne approfittiamo da bravi italiani per fare cambusa di prodotti tipici. Visitiamo le colonne e la mattina di buon'ora via da Brindisi direzione Ioni. Le previsioni meteor si rivelano corrette e dopo 5 miglia vele e motore passiamo il canale d'Otranto con vento d'onda all'asco. Siamo nel canale d'Otranto, siamo un po' a vela, un po' a motore perché ci sono in realtà sette nodi di vento e stiamo puntando tra Ottonia e Ricussa e vediamo com'è di là, poi decidiamo di atterrare. Stiamo facendo un po' di pesca alla traina. Le ragazze sono a prua, le ragazze sono a prua che si divertono e vale, arrivo giù. Le ragazze sono a pru, Praticamente il canale d'Otranto è fatto e di fatti adesso abbiamo davanti a noi una bambina e Otoni la dietro. Quindi tra un'oretta e mezza visto che non c'è più vento stiamo andando completamente a motore a circa sei nodi dovremmo essere in rada mutiamo l'ancora e da bravi 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 italiani facciamo la pasta. All'ingresso di Otoni ci accompagna una piccola balena. Qualcuno ci suggerisce uno zifio e non ce n'è una sola ce ne sono tre abbiamo trovato un'amica balena. Che bella. Hai visto? Un'amica balenottera. Sembra più un delfinone gigante. Il profumo di cozza. Ciao balena. Che bella che è. Ci ha visto ci ha visto ci ha guardato hai visto? ci avviamo a finire la navigazione dietro quella punta c'è la spiaggia dove vorremmo ancorare ragazzi non diteci niente dei parabordi che stanno benissimo lì perché abbiamo la cala piena addirittura c'è un altro tender dentro quindi tant'è. Proprio quando arriviamo sotto costa a Otoni ci allarmiamo per un calore anomalo che ci investe improvvisamente. Improvviso abbiamo sentito un caldo esagerato e allora Marina è andata giù a vedere che cosa è successo e invece la barca stava benissimo il vento appena siamo andati sotto il catabatico di Otoni che noi non sapevamo neanche della sua esistenza che in realtà è un est nord est è diventato caldissimo ma caldo 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 quasi il cambiamento climatico è l'asse della terra che si è spostato il nucleo della terra che è cresciuto da una parte e ha spostato l'asse terrestre nonostante la baia sia bellissima qua siamo Otoni finalmente ci siamo alzati abbiamo messo a posto quello che c'era da mettere a posto come sempre in barca la cosa più bella che c'è in Rada è gentilina guardate che bella quest'isola è praticamente la prima isola che si incontra arrivando dall'Italia Otoni gli italiani la chiamano Fanò è un'isola con pochissimo turismo perché chi ci arriva ci può arrivare solo con la barca ogni tanto c'è anche il traghettino ma oggi no fate conto che è il 4 agosto dopo la traversata decidiamo che ci meritiamo un mezzogiorno con insalata greca e souvlaki ma mentre siamo al ristorante assaltano gentilina abbiamo assistito a un tentativo di assalto a gentilina abbiamo visto che si sono messi sopra l'ancora ci hanno spedato probabilmente la nostra ma la nostra è tossita è costissima e poi sono scappati sono quell'albero là dietro che si sta scappando stanno ancorando fuori adesso dopo un lungo permottamento a Motonio durato circa 12 ore abbiamo fatto l'ultimo bagno abbiamo lasciato l'isola alle nostre spalle eccola qua è bellissima il bagno è appena uscito a fare riconoscenze che la barca si è messa in mondo siamo a Motore perché saremo circa 1,2,2 e stiamo andando verso l'isola di Matrachi quell'isola lì è famosa perché la vuotà della popolazione è emigrata e adesso ancora vive New York e lì non è rimasta quasi nessuno quindi un'isola con quelle corse bellissima, selvaggia ma attenzione di scogli quando andiamo a metà soprattutto a gente di traversia del porto e proprio porto una piccola danza decidiamo di non fermarci alla fine a Matrachi perché guardando le previsioni ci accorgiamo che il giorno dopo si alzerà vento da sud il che ci farà anche saltare la tappa di Paleocastriza troppo esposta per poter passare una giornata in rada o anche solo lavorare a PC insomma abbiamo appena sentito il nostro amico che al posto di venire a Ottoni è andato diretto a Ericussa questa notte e ha detto che c'erano circa 100 barche tra rada e marina e noi eravamo in 10 barche, una cosa del genere quindi siamo contenti di aver fatto questa rada adesso volevamo andare a Paleocastriza ma abbiamo visto che il vento domani rinforza e arriverà da sud quindi abbiamo deciso, visto che adesso riusciamo magari ad avere un po' di traverso andare direttamente a Paxos e arriveremo circa verso le 3 di notte a seguito ulteriori aggiornamenti cosa succede? perché siamo qua a riprendere il nostro riflesso da prua? perché ogni navigazione presenterà sicuramente dei problemi in questo momento siamo alle prese con un guasto di natura elettrica non funzionano le luci di via e adesso le smonto guarda cosa succede, sicuramente funzioneranno perché questa notte dovremo fare navigazione notturna riuscirò sicuramente a rimontarle con la mia maestria con questi lavori manuali e hobbistici me ne vado va? purtroppo chi si loda si imbroda ed ecco il risultato abbastanza amatoriale di questo lavoro sono le luci di emergenza e domani dovrò smontare tutta la linea perché non è il fanale, non è il cavo e quindi il guasto risiede in un posto che troveremo domani va bene quello che vedete dietro è il mare è una veramente una cosa incredibile guardate questa è Corfu quella davanti a noi è Agios Georgios si fanno dei bellissimi falò sulla spiaggia durante l'inverno però perché se venite a accendere un falò in Grecia da aprile in poi incorrete in una sanzione abbastanza pesante vi lascio con questa immagine che sembra arrivare da un altro mondo e noi proseguiamo verso Paxos buonanotte, a domani nel caso ve lo stesse chiedendo questo è un inverter piccolino a cui attaccato c'è l'aspirapolvere non andate in barca senza l'aspirapolvere diventereste matti set up serale di gentilina vediamo chi c'è qua sopra gente che mangia gente incinta un gatto eccoli qua e attorno a noi e niente e niente e niente la notte è tutta scura so che si vede poco e niente si vedono le nostre luci di via questa è l'idea di navigazione notturna là c'è sempre Corfu c'è la nostra turbina che va come un missile ma non si vede niente là c'è sempre Corfu sopra di noi c'è uno stuolo di stelle e la via Lattea ma non si vede niente un compenso qua c'è il nostro albero ecco e le nostre luci finalmente arriviamo a Lacca quando entrati in rada munitevi di una torcia perché le barche sono veramente molte e le luci si confondono con quelle dei lampioni siamo arrivati circa alle 2 alla fine stanotte quindi è stato un bel trasferimento anche questo abbiamo buttato ancora eravamo vicino al moletto dove c'è la scuola vecchia che la vedete là in fondo e questa è la nostra città galleggiante questa è l'H eccoci qua oggi siamo qui oggi dobbiamo attaccare il computer devo fare ancora due lavoretti di manutenzione come sempre perché lo sapete che in barca finisce mai e poi vedremo dove puntare dato che quando sei fermo bisogna stare dietro ai lavoretti cominci una giornata di bellissimo relax un po' di relax sul tender grasso per farlo girare bene un po' di benzina un po' di olio che mi sono accorto di avere due tolle di olio per i due tempi e neanche una per i quattro tempi ma fa niente conosciamo il distributore di carburante e sappiamo dove andare a prenderlo sia per la barca che per il pistolino ho appena finito di rilassarmi con il tender e adesso come vedete mi sto rilassando con la scaletta vivere in barca dopo essermi rilassato col tender e rilassato con la scaletta ho lavorato tre orette e adesso mi rilasso con la pompa dell'acqua che ha deciso di perdere la molla vediamo cosa è successo dentro durante le ultime ore del giorno non c'è niente di meglio per rilassarsi che grattare lo scafo della barca in prevedere tuttora lucidatura questo è il nostro figlio quattordicenne che porta il suo tender neanche uno personale per la pesca privato che non possiamo usare ma questa è la nostra macchinina di servizio che ormai lui la usa vedete come se fosse una bicicletta stanno andando a buttare l'immondizia comunque bravissimo nella migliore tradizione di gentilina solitamente avremmo fatto un buon pollo etnico un pollo al curry un pollo con spezie, salsa d'ostriche e cose visto che mangio pochissima carne o quasi niente ho deciso di provarlo ma con il tofu vediamo cosa succede faccio una ripresa qui e perché non potete sentire l'odore ma l'odore è molto buono com'è l'odore cameraman? buono abbiamo già fatto un video su come allestire e estivare le provviste all'interno del frigo a pozzetto il prossimo video vi facciamo vedere come chiuderlo con la faccia e prenderselo sul naso diretto sono le 5 di mattina di sicuro si vede poco in video siamo sempre in Baialacca il vento non è tantissimo non so se si vede ma le raffiche si sono abbastanza forti che arrivano anche a venti adesso c'è qualcuno che si è toccato che non mi sta spedando stiamo rifacendo gli ormeggi io mi sono spostato perché non ero sicuro dell'ormeggio dell'ancoraggio che avevo fatto sentite una catena che scende e anche questo è dormire in rada io adesso ho settato l'allarme se mi sposto spedo non lo so eccoci qua la notte è passata sono circa le 10 e mezza il vento è un po' aumentato e dovrebbe aumentare ancora nel pomeriggio difatti volevo scendere a terra per fare alcune cose ma ho deciso di rimanere sulla barca perché non si sa mai ho visto che stanotte c'è stato qualche strepito qualcuno che ha calato l'ancora sull'ancora degli altri ma questo può capitare che spedi per il resto tutto bene adesso aspettiamo di mangiare buonissimamente stavo lavorando ma purtroppo abbiamo un'emergenza veterinaria il cavallo di barbie si è si è imbizzarrito allora adesso dobbiamo mettergli eccola qua la gomma anche qua sotto perché se no non non riesci a stare dritto cosa dici? si è un'emergenza e ragazzi questo è l'ufficio più bello del mondo qualche pera il nostro vessillo vedete oggi c'è un po' di qui userei dire nord nord ovest non ci crederete ma muatassi è appena ormeggiato di fianco a noi anzi adesso sta disancorando si passa vicino provo a fare una ripresa più stretta prima di ripartire verso sud ci accostiamo in banchina a Lacca per avere acqua e luce è sufficiente acquistare la scheda del tabaccaio eccoci arrivati ora c'è sempre qualcuno più sobrio di noi ah questi sono i capi flottiglia marina sta attaccando la nuova vetrofania da brava reminiscenza di da store manager leilani sta aspettando di lavare la barca valerio è in attesa anche lui del lavaggio barca e io invece faccio i video ammiro la fiancata che ho fatto ieri pulita tutta bellissima e oggi visto che c'è spazio qua a dritta faccio questa si vede che c'è una bella differenza dai eh stiamo pulendo la barca di nuovo perché a noi piace avere la barca veramente pulita e scintillante ma con una raccomandazione sola soprattutto nelle isole noi siamo a Paxos quindi l'acqua è poca quindi questo è necessario per limitare l'utilizzo dell'acqua non andate con la canna intera a pulire la barca facendo lo spreco di acqua usate sempre questo gru perché alla bisogna è più nemmeno come quello del giardino prego signorina e cominciamo a pulire la barca questi sono una cosa utilissima sono bellissimi ed è un medaglione indiano che mi hanno regalato mi hanno regalato un guru vedete è comodo è anche caldo e puoi portare anche l'acqua nel deserto con questo così non puoi no sto scherzando allora questi sono una cosa importantissima in barca sono i filtri per fare acqua l'acqua nei serbatoi ci sono filtri particolari potete agganciarne quanti ne volete sono filtri per il calcare filtri per le particelle filtri per i residui filtri per tantissime cose e questo è veramente necessario per i serbatoi della barca con un sistema di filtraggio del genere questo è a monte dei serbatoi quindi è prima dei serbatoi e serve a non far entrare tutte le schifezze che potete trovare nell'acqua nei calcare residui polvere terra eccetera 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 per poter bere l'acqua del serbatoio dovete avere un sistema di filtraggio dopo il serbatoio quindi che va al lavandino che va ai lavandini del bagno così potrete berla stesso sistema di filtraggio oppure potrete optare per un sistema di filtraggio di nuovo tipo tipo quelle raggi UV abbiamo salutato tantissimi amici oggi e adesso mi appresto a rilassare un po' anch'io e vado a fare l'altra fiancata l'altra murata della barca avendo passato quasi due intere stagioni all'acqua conosciamo un po' tutti quindi giro di salute a tutti i nostri amici Paxiotti e si riparte verso su eccoci qua adesso stiamo per uscire dall'ormeggio di l'acqua direzione dove andiamo? adesso vediamo andiamo giù andiamo a sud andiamo all'Efkas probabilmente ci fermiamo a un Ormost che non mi ricordo più come si chiama e ci fermiamo lì per stasera che abbiamo appuntamento con una barca di amici qui abbiamo salutato tutti i nostri amici vi abbiamo dato appuntamento alla prossima nel prossimo episodio proseguiamo la nostra rotta verso sud arriveremo all'Efkada dove passeremo il ponte entreremo nell'arcipelago che viene chiamato il paradiso dei velisti a presto e buon vento a tutti inserisalati un paese a presto per la data per la data